L'impennata dell'epidemia influenzale ha fatto segnare il suo massimo proprio in questa settimana. Non ha risparmiato nessuno, bambini, adulti, anziani, ma sono stati in particolare più piccoli, sotto i 5 anni di età, ad essere maggiormente colpiti. 400.000 i casi registrati solo negli ultimi giorni, come comunica l'Istituto Superiore di Sanità, ma non siamo ancora al picco influenzale atteso a fine mese, inizio febbraio. Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, le regioni, che secondo l'andamento hanno evidenziato il tasso di incidenza maggiore. Febbre alta, tosse, dolori articolari e muscolari, ma anche mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento e mal di gola. Possono verificarsi anche nausea, vomito e diarrea, specialmente nei bambini. I sintomi sono quelli consueti di tutti i virus influenzali, ma in questo caso possono durare anche una settimana, dieci giorni. Quello di quest'anno è particolarmente aggressivo e finora ha messo a letto dall'inizio del periodo di osservazione quasi 2 milioni e mezzo di italiani. Gli accorgimenti sono sempre gli stessi. Innanzitutto non affidatevi subito agli antibiotici prima di assumere farmaci specifici, rivolgersi sempre a un medico che meglio di voi saprà indirizzarvi verso la terapia più giusta. Non precipitarsi subito in pronto soccorso potrebbe essere semplicemente inutile e nello stesso tempo complicherebbe il lavoro degli operatori dei reparti di medicina d'urgenza.